Una stretta di mano a Palazzo San Giorgio con il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, per chiudere l'equivoco della mancata concessione di una piazza per ospitare la raccolta di firme per il referendum a favore dell'eutanasia legale. 6.000 le firme finora raccolte in Calabria, 250.000 a livello nazionale, da un male, un bene, ha commentato Cappato, perché è servito a far sapere alle persone della campagna referendaria in corso che riguarda il diritto di ciascuno di poter scegliere fino alla fine della propria vita. Non è un tema di scontro che divide destra e sinistra, laici e cattolici, ma è un tema che unisce perché è un tema di libertà. Cappato ha raggiunto anche il lungomare di Soverato. Nessuno deve essere obbligato a subire una condizione di sofferenza contro la propria volontà. Ecco perché è importante la legalizzazione dell'eutanasia contro l'eutanasia clandestina. I politici non sono riusciti a decidere su questo tema, lo possiamo fare noi con il referendum, firmando ai tavoli o in comune. Siamo a metà dell'opera, ma è necessario proseguire coinvolgendo i sindaci che rappresentano la loro comunità. Il tema della vita, quello dei diritti, le libertà individuali delle persone sono messaggi importanti. Reggio è stata tra le prime città italiane ad istituire il registro delle unioni civili, ad approvare il regolamento sul testamento biologico e adesso a sposare la battaglia sull'eutanasia legale.